Radio Action Bella a tutti ragazzi, questa è la Fraghi Parla Oggi sono qui con un nuovo video su Clash of Clans O meglio, la My Clan Wars numero 3 Terzo episodio di questa serie che vi piace tanto In cui vi farò vedere i miei vari attacchi nelle diverse clan wars Siamo arrivati alla terza clan wars E una clan wars abbastanza combattuta Che non è ancora finita Quindi ve la porto dopo aver appena finito una base review Quindi, niente, siamo qui Mancano 6 ore e 45 minuti Siamo sotto di 10 stelle Ci mancano 4 attacchi di differenza E vedo che da noi gente come Albi e Dandros Quindi tra i più forti, anche Mirko Devono ancora attaccare Per cui confido nelle loro super stelle Che ci diano una mano Però, siamo qui per parlare Dei miei attacchi In questa guerra non avevo risorse Da spendere in attacchi di soli draghi E in più volevo sperimentare anche delle strategie di attacco Che sarebbero rivelate magari un futuro Più efficaci Ho deciso così Di passare a una tecnica Un po' diversa Che è quella di utilizzare Attacchi di terra Ora vi mostro il mio attacco Prima di iniziare Ecco Volevo mostrarvi un po' le mie truppe 6 arcieri Che servivano essenzialmente per far uscire il castello E per buttare giù qualche truppa dal castello 13 giganti 5 spaccamuro 4 maghi 2 fate 3 2 fate al 3 3 Pecca Poi ho le truppe dal castello Che se non sbaglio erano maghi Il re barbaro Il 4 2 pozioni della furia 2 non aveva la cura Purtroppo Volevo sperimentare Era la prima volta in assoluto Ragazzi che usavo i fecca Ve lo giuro Sui signori ce li ho da una vita Ma era la prima volta in assoluto Che usavo i miei pecca E Devo dire che sono rimasto davvero sbalordito Cioè un attacco Mi buttano giù Quasi tutto Per cui davvero delle bestie Però iniziamo E qui c'era il castello Allora ho mandato un gigante Per far uscire Tutte le truppe del castello Questi bagolini figaro C'avevano dentro le streghe Ho pensato è la fine Perché le streghe Continuano a far nascere questi scheletrini qua Che A raffica proprio Guardate Pam 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 Continuano a farli nascere Ogni Non so quanto tempo Ogni 5 secondi Non ho idea E quindi Le truppe si quadruplicano Cioè diventano Sempre sempre di più Ed è quasi impossibile Far fuori il castello del clan Ho dovuto mettere giù Tutti gli arcieri Tutti i maghi E non avevo ancora fatto nulla Ho provato a sganciare Il re barbaro Tanto per Vedere se riuscivo Ho sganciato anche Il mago La truppa del clan In cui scusate C'erano i maghi E un drago E solo così Sono riuscito A distruggere Il castello del clan E a sganciare Tutti i miei giganti Ho perso però Una marea di truppe Soprattutto il re barbaro Che sarebbe stato utilissimo Qui sgancio i giganti Una bella pozione della furia E le due fatte Al tre che sono Abbastanza forti Ed infine I tre pecca Che con la furia Guardate sono devastanti Non li ferma nessuno Poi qui Fortunatamente sono entrati Sgancio la cura Guardate con la furia Come sono Sono devastanti Sono impossibili da contrastare Un paio di colpi Sono ancora Sono secondo me Più forti di un drago Ed è per questo Che essenzialmente Costano di più Anche perché il drago Alla fine Ha tanta vita Ma le difese aeree lo buttano giù In pochissimo tempo Qui i nostri pecca Prendono tanti di quei danni Ma le fate Li soccorrono E poi la loro grandissima Durevolezza Ecco la loro grandissima vita Gli permette di Buttare comunque Giù gran parte Dei depositi E delle miniere Che c'erano E degli estrattori Che c'erano da questa parte Purtroppo Continuano verso l'esterno E quindi Proseguono da quella parte Anziché andare verso il municipio Anche perché Verso il municipio Ci sarebbero state Ben poche difese I mortai Ma i mortai Suo obiettivo singolo Non fanno molto danno Fortunatamente Come vedremo qua Il nostro pecca Si dirige verso il municipio E Mentre l'altro All'esterno viene ucciso Come vedete Ha due mortai Che gli sparano addosso E una torre degli arcieri Ma nonostante ciò Butta giù il municipio Con relativa Semplicità E il re barbaro Si domanda Cosa sia quel robo lì Che non muore mai E non lo caga Neanche di striccio E poi termina La mia La mia battaglia Passiamo così Al Al secondo Fatto importante Ecco Che è come sempre La difesa Mostrandovi La mia difesa Perché essendo la mia Clan Wars Non conta solo l'attacco Ma conta anche Sapersi difendere La disposizione è sempre la stessa È una disposizione Che io ritengo Molto ma molto forte Quindi Se volete vedere Come funziona Eccetera Vabbè Ok guardate questo video Ma se volete bene vedere Come funziona Date un'occhiata Al mio video Che l'ho recensita Il nome dovrebbe essere Mai Disposizione Livello 8 Clan Wars Eccetera Come vedete Ha fatto un attacco Abbastanza particolare Con due golem Al 3 15 maghi Livello 5 3 su pacca muro Due giganti Al 5 9 arcieri Al 5 Truppe del clan Un re barbaro Al 7 Se non sbaglio E la regina degli arcieri Al 5 Più 4 Pozioni della furia Questo qui Era nettamente Più forte di me Io i golem Non li ho ancora Neanche usati Perché Costano l'ira di dio Non ce li ho Cioè ce li ho All'1 Forse Forse E quindi Questo qui che me li attacca Con i golem Al 2 Al 3 Scusate È abbastanza Abbastanza Di abbastanza Questa disposizione Se devo essere sincero Funziona Molto bene Sugli attacchi Solo draghi Funziona Non dico male Anzi Molto bene Ma un po' Peggio Su attacchi Di terra E ce ne accorgiamo In questo video Come vedete Sgancia subito I giganti Che passano Da questa parte Ma Vengono attaccati Vengono attaccati Dalle truppe Del clan Quindi maghi Di livello Anche abbastanza Alto E non fanno Neanche in tempo A raggiungere Il nostro mortaio Sgancia però Degli arcieri Che attirano Le truppe Dall'altra parte E E quindi Molto probabilmente Adesso la sua tecnica Sverterà Sul buttarmi giù Le truppe Ehm Impiega Un bel po' Di tempo Comunque A A buttarmele giù Come vedrete Ehm Ci mette un bel po' D'arcieri Da attirare Anche se comunque Gli arcieri Fungono sostanzialmente A quello Poi sgancia Un qualche drago E qualche mago Le mie truppe Sono tutte le vicine E quindi Non gli sarà Difficile Distruggermene Ehm Arrivano i golem Che sono attirati Naturalmente Al nostro mortaio Che sta lì All'interno E Ehm Tutte le Difese Ehm Puntano su Questi ultimi Che però Ehm Come vedete Sono praticamente Imbattibili Intanto ha sganciato Anche i pecca Ehm Che a livello 3 neri A me strapiacciono Con due spade Se non sbaglio Hanno due spade Da livello 3 Se non sbaglio Si Ehm Guardate La furia dei pecca Che con 3 colpi Mi buttano giù i depositi E con la furia Sono incontrastabili Nel castello del clan Un altro pecca E quindi Un Un attacco davvero Di livelli altissimi Qui ha sganciato persino La regina Erea Barbaron Ehm Livello 5 Livello 7 Che mi fanno giù Il municipio Ehm Deve usare una furia Perché Ehm Si accorge che comunque Ehm Ci sta mettendo Molto tempo Ehm Ehm Questa difesa Ehm Essendo molto Frammentata Come vedete E' fatta da zone Molto differenti Prima Di riuscire a passare Ehm Tra un muro All'altro Ehm Ci vuole del tempo Per cui In questo arco di tempo Le difese Hanno anche la possibilità Di Ehm Di dare Il loro Ehm Contributo E di concludere Ehm Di Porre in fin di vita Le diverse truppe Qui Altra furia Davvero un dispendio Grandissimo Che non so neanche Quanto potesse guadagnare Col mio villaggio Credo Secondo me Uno che potrebbe Che attacca il mio villaggio Guadagna sui 240 40.000 Di Ehm Oro e lisier Qui sfondano All'interno Della Della nostra Della mia Disposizione Però come vedete Manca ancora La torre del mago Un cannone Un deposito E una torre degli arcieri Che Ehm Resistono Ehm In maniera Esemplare Qui Ehm Golem Ehm Pekka Devono far giù Le mura Anche se non è Una grandissima Ehm Una grandissima Difficoltà Ehm Per cui Si dirigono Verso La Torre degli arcieri E il tempo Passa Ehm Così Ehm Fanno Il 99% Ragazzi Non riescono a terminare L'impresa E' davvero Una sfiga Grandissima Anche perché Ehm Ha utilizzato Una marea Di truppe Di un livello Di un livello altissimo Secondo me Ha speso Ehm Se Tra i 400 E i 500 Mila Ehm Di Ehm Di Ehm Elisir Solo per un attacco Così Per cui Ehm Si è beccato Due stelle Non tre Immagino la sua Incazzatura Davvero Ehm Non posso neanche Non posso neanche Immaginarla Perché Ehm Un devasto Totale Ehm 99% Dopo aver utilizzato Tutte quelle truppe Ehm 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 Però ci dimostra Anche l'efficacia Della mia difesa Ehm Ora passiamo All'ultimo Che ho attaccato Da poco Davvero Ehm Ehm Perdonate il lag Ehm Ehm Spero che Ehm Non incida troppo Sulla riproduzione Del video Anche se ci sta mettendo Gnani del signore Zedus Ehm Ehm Ecco Ehm Dobbiamo attaccare Questo villaggio Ehm Una Questa forma È classicissima È una tra le più comuni Al municipio Level 8 La utilizzano tutti Perché È forte Con le difese aeree Al centro Quindi Praticamente È Difficilissima Da Attaccare con solo i draghi Infatti l'attacco precedente Era stato fatto Con Ehm Dieci draghi Livello 3 E E aveva fatto Una sola stella Perché Sicuramente È una difesa Molto difficile Ehm Da contrastare Ehm Quindi Ho deciso Visto La forza Di questa difesa Contro Le attacchi aeree Ho deciso di Riproporre Un attacco di terra Ehm Questa volta Mi sono procurato Il fulmine Per Buttare giù le truppe Perché Almeno evitavo Queste streghe maligni Di procreare I loro roiti Di figli E Bambini Di scheletri Che sono E di Ehm Buttarmi giù Tutte le truppe E Il fulmine Ha funzionato Quindi Ehm Ho preferito usare Un fulmine In questo modo Anziché Magari una furia O una cura In un altro modo Qui Con i miei ultimi arcieri Ehm Cioè con gli ultimi arcieri Con i miei arcieri Eh butto giù Maghi E E piccolini Che siano Sgancio Il I I I Bellissimi giganti Però Ho l'illuminazione E mi sono dimenticato Di spaccamulo Eh Nonostante ciò Comunque penetrano In correlativa facilità Poi gli sgancio anche Le Due Ehm Le due fatte Di cui una mi muore subito Quindi Madonnaggia che sfiga Sgancio il re barbolo Da questa parte I maghi E gli arcieri Assieme alle truppe del clan E Cerco di distribuire Questa volta i pecca In maniera un po' più Ehm Espansa Quindi non li metto tutti vicini Anche perché Non ha Non ha molto senso Dal momento che tirano un colpo E buttano giù Quindi Ehm Metterli assieme Ehm Si ruberebbero tempo A vicenda In più attirano anche le difese nemiche Quindi questo mi permette di Ehm Avere Un buono Un bel po' di tempo Ehm Per far giù Le mura Che ci stanno da questa parte Grazie ai Ai giganti E ai maghi Qui i maghi E il pecca Tirano giù il municipio In un batter d'occhio E siamo già Al 50% Quindi Già due stelle assicurate Ehm Mentre credevo Non dico di farne una Però non avevo neanche Quella gran Ehm Quel gran Ehm Diciamo Non pensavo neanche Di farne due Ecco Non ero convintissimo Qui buttano giù Le barbaro In Con una facilità estrema Però ormai capite anche voi Che Ehm Da questa parte Abbiamo tutte difese Praticamente Due mortai Ehm Cannoni Torri degli arcieli Torri dello stregone Quindi E' quasi impossibile Entrare E di fatti Ehm Le mie truppe Si spengono In questa parte qui Ora ragazzi Non so Se vinceremo la guerra Me lo auguro Con tutto il cuore Perché Comunque E' stata molto impegnativa Ed è sempre bello Avere un bottino Abbastanza alto Ehm Purtroppo Ho visto che I risultati Non vanno benissimo Ehm Però Ehm Confido Nell'attacco Dei superiori Ehm Dato la fare tutto Ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Ehm Vi ricordo Di mettere il mi piace Alla mia pagina facebook Che trovate in descrizione Se volete rimanere Sempre aggiornati E magari se in un futuro Parteciperete a contest E così E' essenziale Che abbiate il like Alla pagina facebook E quindi Spollizzate sulla pagina facebook Spollizzate sotto questo video A breve farò un video Anche in cui vi spiegherò Come entrare nel mio clan Quali sono le restrizioni Eccetera eccetera Così che non me lo chiederete più Nei commenti E saprete bene Tutto Ehm Il necessario Dato la fare tutto E ci vediamo Alla prossima Ciao